musica 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 che la vedo? sta dando un po' di problemi musica dopo andiamo dopo quando c'è il mercato giriamo dentro la sinistra per la salita bella rosa! bella rosa! no no a destra a destra sono quello di sopra, dove porti questo? io ho un mountain bike ah ok no no sono già sciuti i dolori? già sciuti i dolori? no i dolori che diceva lui prima non manca tanto la vetta l'arrivo è quello là e prendete la strada su a sinistra non spaventatevi eh è una solita facile ma è un po' difficile certo che è una solita facile 18x100 ultimi metri basta ultimi metri adesso 1,8 è che mancano gli ultimi 100 metri guarda questa cosa qua che bellissima è che dovuta bene eh un po' migliore ci riesce da quanto siete arrivati? sono appena arrivato poi io è bruttissimo è bruttissimo guarda che gli ha letto 1,8 eh quante storie c'è un 18% ultimo pezzo ultimo pezzo qua non c'è è impegnata a morire dove si va? eh barbiggio facciamo quando scendi andiamo a sinistra sinistra sì e ce l'è fatta alla fine dai che media ha fatto in una gara? 40 che hai certo grazie a tutti 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 Sì, tanto è guai No, 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 no Tu la volta che usciamo, scuola volta lanto No, no, no